I controlli verranno fatti non solo sulle strade, dove già abbiamo operato in questi giorni, di zona rossa, ma anche online. Questa volta per le feste sappiamo che tramite richiami sui social qualcuno sta cercando di individuare delle strutture dove riunirsi. Noi faremo gli interventi necessari affinché si eviti di ripetere ciò che è successo quest'estate. Sono le dichiarazioni del ministro dell'Interno Lamorgese.